Musica Chiude il sudo Aspetta che non vedo nulla Non ci picchia! Sono già le cinque! Vediamo che cambio posso mettermi Andiamo qua di tra questa, questa, questa Ok i capelli stanno bene così Papillon che non può mai mancare E la cartellina Ah bene sono ancora le sette Adesso è ora di andare a scuola Musica Sono già le sette e mezza E oggi è anche il primo giorno di scuola E io sto ancora a zero Fammi preparare Allora vediamo oggi cosa mi metto Allora no questo l'ho messo ieri alla testa Ah bello questo vestito Perfetto Wow anche questo giugato nero Adesso si che sono la nuda Allora Allora i trucchi Il profumo Il telefono Lo specchetto per truccarmi E l'alluma Adesso sono pronta per andare a scuola Che bello Sta per iniziare l'ora di matematica E' da mercoledì che aspettavo questo momento Sono proprio innamorato della matematica Con i suoi problemi, i suoi logaritmi Le sue equazioni Poi tutti i teorini Buongiorno ragazzi Come vedete sono la supplente Oggi sono qui per sostituire la prof di matematica Che ha avuto un impegno Quindi durante questa ora Potete fare qualche volita Cosa? Ma non è possibile Perché si assenta sempre la prof di matematica E non cuore di religione O pregolo di educazione fisica Adesso per passare del tempo Mi finisco tutti gli esercici del libro di matematica E anche questo è uscito Ho finito tutti gli esercizi del libro di matematica Oggi sono qui per sostituire la prof di matematica Che ha avuto un impegno Evviva! Finalmente dopo tre mesi di scuola Si assenta un professore E pensare che io non avevo neanche fatto i prof di matematica Ma io adesso non so cosa fare Ma aspetta Fino alla fine dell'ora mi gioco E avvolge un ultimo grappolo insensato di parole Idei e sogni ed è finito Ok La prof ci ha dato solo questo libro da leggere Io ne volevo leggere tanti altri Vediamo se ho qualche libro qui Adesso si che mi diverto Il libro che narra la storia eterna E che di pagina in pagina Si fa sempre più avvincente e straordinario Ok adesso è finito anche tutti questi libri Vediamo cosa posso fare adesso per continuare a studiare Bene è anche qui ho finito Dai adesso gioco un po' al computer I miei giochi preferiti E poi vado a dormire Uffa io per domani ho da leggere questo libro A me non mi va Va bene giostefico Adesso vado un attimo su Facebook Ora vado a caricare una foto su Instagram Adesso visto che non ho niente da fare vado su Twitter Ah prima questa è ripiazione Avevo una gran fame Ah vi ripiazzi Devo riprendere le energie E cosa c'è di meglio del cibo sano? Anche perché domani ho le Olimpiadi di informatica Ragazzi anche questo video è terminato Spero che vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivetevi al canale Condividete questo video dove volete voi Seguitemi anche su Instagram Iscrivetevi al numero d'appliccio qui sotto E che dire da me e da sorella Ci vediamo in un prossimo video Ciao